E' alla vendetta, che pensi? Dov'è Robert? Dov'è vostro marito? Non lo so! Serve solo a straziare l'anima. Vostro fratello! No! Ma può rivelarsi un'arma? Ho smesso di scappare e sono stufo di nascondermi. Il potere è prendere decisioni. Qualsiasi rotta stiate tracciando, io scelgo voi. Mio marito. Dobbiamo unificare la Scozia. Robert Bruce è un fuorilegge. Che ogni uomo o donna che darà riparo a lui o ai suoi uomini... sia giustiziato senza processo. La gente vuole disperatamente giustizia. Io sono al servizio di Robert Bruce! Uniamoci per liberare la nostra terra! 50 uomini per combattere l'esercito più forte del mondo. Faremo così. Ci riprenderemo la terra, castello per castello. Potete combattere per Dio! Per il paese! Per la famiglia! Non mi interessa! Ma combattete! Qualcuno ha nulla Per la famiglia! Grazie a tutti.